Signori le mani su a tempo Forza forza le mani le mani Signori stasera abbiamo un ospite Mister Pasquale di Lascio alle percussioni Fategli sentire le mani su a tempo Vediamo come siamo messi con la voce Pronti? Ho ho voce La chiamica Ho ho voce Facciamo meglio Ho ho voce Attenzione Ho 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 voce Ho ho voce Ho ho voce Passa via, e a mi ritorno, o dopo nemo te vedi, oi la la, che stia umbriš con niz, a casa bava tutta piz, ovi dame mi sordice, a da fanno te garis, si te maravate pric, ovo tu srte che abri, ova canta mi riz, da nasci ne schicca schicca, mi da guarda muška a vise, che stia umbriš con niz. Signori le mani su, ok adesso conoscete il gioco mi raccomando, tutte le mani a tempo, pure un signor in prima fila che non puo fa niente, le mani, forse, mi raccomando, ho ho voce, Asci kifejca, ho ho voce, działamej, ho 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 In aqueca la 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 la, che stia umbriš, Jong vamosmspilili sposti che ulegti i spio, asci kifejca, ho 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 po' schicca, Grazie! Grazie! Grazie!